Ragazzi, buongiorno di nuovo. Allora, stavamo parlando nel video precedente, ok, visto che questa è appunto la seconda parte, come dicevamo, del nuovo mondo, ok, che abbiamo la possibilità di creare tutti quanti insieme, nessuno escluso, quantomeno a livello potenziale, ok? Ok, ossia questa nuova età dell'oro, ok, che siamo quasi pronti per, potremmo dire, rivivere, rimanifestare, ok, visto che non sarebbe comunque la prima volta. Che connotazioni ha questo nuovo mondo, questa nuova era, ok? Ok, beh, tantissime ovviamente, le più disparate, ok, in primis il fatto che l'uomo, grazie alla sua ritrovata, potremmo dire in un certo senso consapevolezza, ok, è riuscito a oltrepassare quelli che sono i suoi limiti, ok, o potremmo dire anche a chiudere quelli che sono, a spezzare, ok, quelli che sono i suoi loop, ok, non tanto chiudere il cerchio, in questo caso direi meglio spezzare o uscire dal cerchio, ok, e anche qui una cosa molto importante, ok, perché la questione del loop è, mi rendo conto, non è così scontata da capire, cioè, beh, la storia lo conferma, d'altra parte, il fatto che noi abbiamo dovuto ripercorrere chissà quante volte, ok, chissà quanti anni realmente, perché secondo la storiografia ufficiale, ok, l'umanità dovrebbe avere 5.000 anni, dico dovrebbe avere perché potrei sempre essere impreciso in questo, ma la scorsa volta, una delle cose più importanti, ok, che abbiamo detto, anche se non ci ho dedicato abbastanza tempo, è che in realtà l'uomo, così come lo conosciamo almeno, ne ha 200.000 di anni, ok, e questo ovviamente sono tutte scoperte che sta facendo, potremmo chiamarle delle branche del sapere come l'antropologia, l'archeologia, ok, e quant'altro, ok, tutte le discipline annesse. E anche lì non ci soffermiamo nei dettagli, è importantissimo però capire che Darwin, che abbiamo nominato più volte, così come anche e soprattutto nello scorso video, per capire poi il perché siamo arrivati a questo punto, ok, ha elaborato una teoria che è quella dell'evoluzione della specie, che non è di per sé sbagliata, ok, nel senso che comunque la possiamo anche applicare al mondo animale, per esempio, ma l'uomo, ok, in questo caso rappresenta, forse, ok, la più grande, o quantomeno l'unica, quantomeno, e forse anche la più grande, ok, eccezione a questo. Perché? Perché fondamentalmente non... oltre al fatto che, al punto che abbiamo detto del fatto che non si trovi appunto un progenitore comune tra, non si capisca ancora quale sia questo progenitore comune tra l'uomo e la scimmia, ok, non si riescono a spiegare neanche un'altra serie di caratteristiche, così, va bene, le accenerò in un altro video. Comunque, caratteristiche prettamente evolutive esterne, ok, ci sono tante cose interessanti, ok, che potremmo dire a riguardo. Pensate, per esempio, al fatto che noi non abbiamo il pelo, ok, cioè, nel senso che che senso ha i fini evoluzionistici. Molte persone, ho sentito dire, eh, ma il pelo l'abbiamo perso perché poi adesso ci siamo adattati a un altro tipo di sopravvivenza, ok, le case, la società, l'urbanizzazione, sì, ok, va benissimo, ci sta come ragionamento, ma non dimentichiamoci che cambiamenti evoluzionistici di questa portata, e comunque è anche strano in questo caso usare la parola evoluzionistici, anche se per carità potrebbe anche essere, in un futuro remoto, non avvengono in così breve tempo. Questa è una delle cose più importanti da capire, cioè, questi cambiamenti sono molto, molto, molto lunghi. Non è che, diciamo, 5.000 anni, ok, per esempio, perdiamo il pelo, ok. Pensate anche, non so, se ci adattassimo a vivere in un ambiente che praticamente è quasi interamente ricoperto di acqua, non lo so, dico io, e dove dovremmo avere, non so, branchie, palmi sulle mani, cose magari che possono anche succedere a livello evoluzionistico, non avvengono da un momento all'altro, ok. E forse il più grande mistero, e poi, a betta, taglio corto con questo, lo chiudo qua, poi, ripeto, ne riparleremo, è quello anche dei cromosomi 2 e 7 che si sono, cioè, praticamente sviluppati, ok, con una velocità, con una rapidità pazzesca, ma di per sé anche tutta la teoria dell'evoluzione di Darwin per quello che riguarda la casualità di tutta quello che è stata poi l'evoluzione della natura, del mondo, ok, per questo mondo, ok, il pianeta Terra, tutto quello che succede nel pianeta Terra, per come noi almeno lo conosciamo, cioè, dire che tutto questo è avvenuto a caso, è follia, cioè, nel senso, è, tra l'altro, indimostrabile. Cose già dette, ripeto, ma che è importante ribadire, perché? Perché, dalla teoria di Darwin, chi ha saputo utilizzarla o portarla in palmo di mano per i propri scopi, ha così imposto di conseguenza, una conseguenza che apparirebbe quasi logica, ok, una visione, ok, materialistica della vita e quindi della società e di conseguenza tutti i valori che ora vengono appunto predicati e che di certo non sono positivi né tantomeno potenzianti e che hanno portato, sì, insomma, a una visione della vita molto, molto cupa, in un certo senso, priva di significato, ok, quando in realtà, al di là del fatto che uno possa attribuire o meno un senso particolare alla vita, ok, questo comunque può essere anche soggettivo, il problema principale è quello di dimenticarsi, ok, da dove veniamo, di dimenticarci chi siamo veramente. e quindi, riaccendendosi alla consapevolezza e proseguendo appunto incessantemente verso un aumento spontaneo, questo concetto alternativo che è dell'entropia che abbiamo nominato più volte, ecco che l'uomo si sveglia dal sonno e dal sogno, forse potremmo dire, e inizia a prendere davvero in mano la propria vita e quella di conseguenza dal punto di vista collettivo dell'intera specie. E quindi come sarà? Come potremmo disegnarla anche tutti assieme questa nuova società, di questo uomo nuovo appunto? Io adesso voglio anche darvi degli spunti, nel senso che comunque è quello che ho così studiato, ho avuto modo anche però di reinterpretare, ok, mi sono fatto diverse idee, ho ascoltato diversi pareri, e anche ovviamente ho viaggiato io stesso con la mia creatività, fantasia e immaginazione, ok, chiamatela come volete. Parlavamo nello scorso video, ok, mi pare che fosse uno degli ultimi concetti con cui ci eravamo lasciati, di questa sorta di comunismo scientifico, ok, anche qui non voglio usare queste parole, do questa sorta di etichetta per richiamare dei concetti, perché? Perché la scienza, ok, utilizzata per quello che è il suo vero scopo, ok, e quindi il miglioramento delle condizioni di tutta appunto l'intera umanità, ragazzi, mei può fare dei miracoli e farà dei miracoli. E in un certo senso li sta facendo già adesso, pensiamo comunque alla capacità di comunicazione che abbiamo raggiunto in questo periodo, grazie alla tecnologia, grazie al progresso tecnico, ai computer, ai internet, ok, strumenti che io voglio sempre rivalutare, ok, io per primo è perché comunque tendo sempre a svalutarli, o comunque ci sono dei momenti in cui, diciamo, un po' disprezzo, l'utilizzo che ne viene fatto, ok, come dico sempre, il problema è non tanto lo strumento però, ma appunto l'utilizzo che se ne fa, no, anche qui il mio esempio classico, la pistola che non spara mai o quasi mai comunque da sola a qualcuno, e comunque qualora fosse, qualora sprasse da sola di certo è perché sarebbe stata impostata così in qualche modo da qualcun altro, e quindi sempre all'utilizzatore, no, torniamo. E la scienza quindi sarà il nostro braccio destro che è il progresso scientifico, in generale, che ci aiuterà a fare tutta una serie di apparenti, ok, perché poi di fatto non lo so, cioè sono evidenti, ok, saranno evidenti, miracoli. In che senso? Ma immaginiamoci quindi, entrando nel vivo del discorso, immaginiamoci di disegnare, appunto, questa nuova società. Che cosa prevederebbe? Come potrebbe essere strutturata? Beh, in accordo a quelli che sono anche i diritti fondamentali, ok, dell'uomo, che adesso non stiamo a enumerare, ma ci sono delle cose che dovrebbero essere spontanee, ok, immediate, ovvie, scontate per tutti, tutti quanti avranno diritto ad un'abitazione e tutti quanti avranno un'abitazione e tutti quanti avranno diritto a delle condizioni di sussistenza minime, ok, che poi di fatto minime non saranno, ma minime si intende proprio di base, ok, essenziali, come il cibo, l'acqua, beh, dei vestiti, ok, nel senso, e tutto questo sarà garantito dalla, non solo da come ci saremmo organizzati, ma anche dalla tecnica stessa, molto probabilmente non mi stupirebbe se la moneta, il denaro, ok, fossero semplicemente dei ricordi di un passato che non ci apparterrà più, nel senso che comunque, essendo l'uomo, avendo l'uomo, ok, raggiunto un livello di consapevolezza tale per cui ha completamente rivoluzionato la società, tutto quello che appartiene al vecchio, al vecchio mondo, ok, non ci sarà più, quantomeno nella forma di disuguaglianza, ok, e mancanza di rispetto per noi stessi e per il pianeta, e quindi non solo a tutto lo sfruttamento improprio, ok, e ingiusto, passatemi il termine, che noi stiamo facendo adesso, ma anche fra di noi uomini, tutte quelle dinamiche di sopraffazione, crudeltà, a partire da quelle nel piccolo, ok, cosa potrebbero essere? ruberie, vabbè, anche cose più brutte che magari non mi va per forza di, vabbè, anche omicidi, ok, violenza, stupri, ok, tutte queste coglionerie varie, che non hanno alcun senso veramente, e comunque sono il sintomo e la manifestazione di problemi di disofferenza, ok, e crudeltà che avvengono continuamente nella nostra società e da molti, molti anni. Perché, non so, io ho sempre considerato in un certo senso queste persone, anche le persone che si comportano male, comunque commettono azioni un po', vabbè, un po', come anche qui mi viene difficile giudicarle, comunque azioni che di certo non fanno bene né agli altri, né a chi le riceve, ma tanto meno a chi le fa, e sono un po' vittime del sistema, sono vittime del sistema fondamentalmente perché sono cresciuti in un contesto che vuoi per un motivo, vuoi per un altro, lungi le mani dal giustificarli, ovviamente, li ha portati ad essere così. Perché dico questo? Beh, perché fondamentalmente con queste parole voglio anche esprimere della compassione nei loro confronti. È vero che poi ognuno di noi ha la propria responsabilità nelle azioni che commette, però dobbiamo sempre considerare, secondo me, il contesto, ok, sociale e culturale che ha portato una persona a comportarsi in una determinata maniera. Uno degli esempi che a me stanno più a cuore, in un certo senso, sono quelli dei serial killer, ok, per esempio, che chissà, cioè io penso sempre quando sento delle determinate notizie, ok, quelle poche che mi giungono, quantomeno, o magari dalla cinematografia, quant'altro, a che vita triste e brutta, soprattutto nell'infanzia, possono aver avuto queste persone. Ripeto, possono aver avuto, poi non è detto, però andando un attimo nel profondo, sulle radici, ok, della vita, della storia di questa persona X, vi assicuro che i problemi non sono stati pochi, anzi. e perché queste dinamiche non ci saranno più? Perché noi, io credo appunto, comunque prendete queste parole come volete, ripeto, il mio obiettivo è sempre quello di fornire degli spunti di riflessione, ok, poi penso che la vostra fantasia, la vostra immaginazione, magari anche accese da queste mie parole, possono partorire delle idee, e dei pensieri altrettanto meravigliosi, ok, e noi riuniti nel nome dell'amore, ok, l'amore per tutto, fondamentalmente, avremo completamente dimenticato questo tipo di dinamiche, proprio perché appunto, da un punto di vista di coscienza collettiva, scusate, saremo notevolmente, notevolmente evoluti, e questo mi fa pensare anche al discorso della tossicodipendenza, ok, questo è importantissimo, perché già questo, per esempio, è uno dei primi passi, non è che le cose non ci sono, stiamo già muovendo dei primi passi in questa direzione, nella direzione del nuovo mondo, ok, e queste piccole cose me lo fanno capire da un certo punto di vista, ok, pensate per esempio al discorso della tossicodipendenza, leggevo un articolo secondo cui mi pare in Portogallo, erano state diminuite, dal punto di vista percentuale, ok, in maniera significativa, molto significativa, ok, non ricordo quanto, quindi non ve lo riporto, ma mi ricordo un dato importante, i consumi di droghe pesanti e da ago, ok, se non sbaglio, quindi tipo l'eroina, e questo perché, e intanto se non sbaglio sempre, ripeto, poi prendetemi con le pinze, in caso andatevelo a cercare, le hanno liberalizzate, e vabbè, qui ci sono tutti i presupposti psicologici, magari che inerenti al fatto di proibire un qualcosa, no, è chiaro, il bambino, mi sembra molto un gioco da bambini, questo no, proibisce il bambino qualcosa, e stai sicuro che lui farà tutto, eviterà di tutto, tranne che quella cosa lì, perché, non lo so, non lo so, perché forse è un meccanismo proprio istintivo, cioè tu mi proibisci una cosa, io sono tanto più invogliato all'ora di farla, no, non gli dai attenzione, non gli dai rilevanza ai miei occhi, allora magari le ignoro anch'io, no, vabbè, quante volte anche pensiamo a questi meccanismi durante la nostra infanzia, no, ma la cosa più importante, quella che mi ha fatto più anche sorridere, è la maniera in cui poi di fatto, la cosa che mi ha fatto più sorridere, è il discorso emotivo, il discorso affettivo, in che senso? Nel senso che si notava come dei pazienti ospedalieri, ok, una volta dimessi, non diventassero dei tossicodipendenti, cosa c'entra questo? Beh, vi interesserà sapere, non è questa magari la serie di discussione, ma non so se ne ho mai parlato tra l'altro della differenza che c'è tra droga e farmaco, le persone tendono a... vedete ragazzi, le parole, anche quelle parole hanno un peso, le parole sono importanti, e purtroppo spesse volte sono anche ingannevoli, droga e farmaco fondamentalmente sono dei sinonimi, ma quando io sento farmaco, o quando una persona normale, intendo dire una persona X, qualsiasi, sente la parola farmaco, pensa, ah, sì, quello che ti curano, e quando invece un'altra persona, o la stessa persona, scusate, senta la parola droga, dice, oh mio Dio, quella lì ti uccide, quella lì ti porta alla morte, sì, però ragazzi, dobbiamo anche considerare che la parola droga e la parola farmaco hanno lo stesso tipo di significato, anzi, vi dirò di più, farmaco, è una parola che noi l'abbiamo ripresa dal greco, farmacon, ok, ha un duplice significato, no? Da un lato appunto significava farmaco, quindi come effettivamente qualcosa di, dal potere guaritore, ok, diciamo, dall'altro significava veleno, e così è, se consideriamo la farmacologia tradizionale, ok, quindi quella adottata dalla chimica, scusate, dalla medicina allopatica, ok, occidentale, allopatica, lo ripetiamo altre volte, lo ripetiamo ancora, in maniera ovviamente molto semplice, combatti il fuoco con l'acqua, fondamentalmente il principio è quello, al contrario di omeopatia, che sarebbe combatti il fuoco con il fuoco, no? Proprio a livello, ripeto, semplificatissimo, e la morfina, ok, quindi quel potentissimo piaceo anestetizzante, potremmo dire in un certo senso, che ci viene dato, ci viene dato a chi almeno l'ha preso, ok, che viene dato, somministrato in ospedale, nei più disparati casi, ok, altro non è che eroina, infatti vi interesserà sapere che l'eroina, il nome chimico dell'eroina è d'estromorfina, quindi stiamo parlando praticamente della stessa identica cosa, qual è la differenza? Anche qui le parole, ok, utilizzate, perché come dico eroina, una persona, oh, l'eroina, quella cosa lì, è bene, perfetto, quando in ospedale vi danno la morfina, state prendendo la stessa identica cosa, qual è la differenza? Il taglio della sostanza, ovviamente, nel senso che il rischio legato alla sostanza, che magari una persona assume per strada, ok, oltre a tutto quello che può essere connesso ad altri tipi di rischi, come la siringa, il laccio emostatico, il sapersi fare la puntura e non bucarsi in avena, magari, è il taglio, ripeto, appunto della sostanza, quindi il come effettivamente viene commercializzata, se è sporcata con altra merda, cosa molto probabile, perché appunto c'è gente che, non si fa nemmeno scrupoli sulla salute delle persone, e su questo è tanto uguale quel tipo di mercato nero, quanto anche quell'ospedaliero, ok, e chissà che non siano magari la stessa cosa, ma questo, vabbè, sono solo pensieri maliziosi, ok, chiamiamoli così, e invece, come per magia, che magia non è appunto, una persona appunto che viene dimessa, scusate, dall'ospedale, anche se è stata somministrata di fatto delle roviglie, ok, pura, per quanto, ok, pura possa essere, non diventa tossicodipendente, perché, vabbè, lasciamo, tralasciamo proprio la considerazione, per cui la, la sostanza, ok, sia ben preparata, ok, e concentriamoci, e concentriamoci però sull'aspetto emotivo, questa persona, una volta tornata a casa, nella stragrande maggioranza dei casi, almeno mi immagino, ha una famiglia alle spalle, che è pronta ad accoglierla, ok, e l'errore più grande che noi possiamo fare con tantissime categorie di persone, come ad esempio appunto i tossicodipendenti, è quella di escluderle, considerarle delle brutte persone, solo perché hanno avuto una vita difficile, o magari perché sono state deboli, ok, non so se fisicamente, spiritualmente, emotivamente, o qualsiasi altra cosa, e hanno cercato il rifugio, o la soluzione dei loro problemi, in qualcosa che tutti sappiamo, non ti, non ti darà mai niente in cambio di quel tipo, ma solamente un'illusione temporanea di, non lo so, benessere, di assenza di pensieri, di preoccupazioni, però dopo ci cadi in quelle cose lì, ok, e l'amore, ok, la vicinanza, il sostegno emotivo, la sensazione di essere comunque parte del gruppo, ok, e non dei reietti, dei rinnegati, dei rifiuti della società, è fondamentale per le persone, e purtroppo nella società, attuale, le differenze, le disuguaglianze, sono molto molto forti, e ci sono in tutti i livelli, in tutti i tipi, in primis, quella economica, la disuguaglianza economica, è probabilmente il problema più grosso, fondamentalmente, ma non è l'unico, cioè, non dico più, cioè, lo dico più grosso perché, non ci dimentichiamo che poi l'attuale sistema, l'attuale società, nonché modello economico, per poter essere fondato, ok, su una disuguaglianza, ok, si parla molto spesso di meritocrazia, si parla di moltissime cose, su cui anche si può essere d'accordo, quello che si trascura, però, è che un regime del genere, ok, per poter funzionare, ha necessariamente bisogno di un fondo, una piramide, ok, con un vertice, come abbiamo detto più volte, e con un fondo soprattutto, però, perché senza fondo, senza sfruttamento, ok, di un capro espiatorio, anche, non ci potrebbe essere una fonte di disuguaglianza, per creare disuguaglianza, in primis, io ho bisogno di sfruttare, o comunque di andare a discapito, di qualcun altro, questo qualcun altro, potrebbero essere, in un certo senso, i paesi del terzo mondo, ok, io, quando penso a ragionare, quando faccio ragionamenti di questo tipo, in testa mia, ma ve lo dico, cioè, voi, non so, ditemi cosa ne pensate, ugualmente, ho l'Africa, tra le, tra i primi pensieri, proprio perché, da un punto di vista coloniale, imperialistico, e di sfruttamento, probabilmente sta, probabilmente, e dico, per quel che ne so io, è stato, cioè, uno dei paesi, uno dei continenti più, abusati, proprio, cioè, la razzia totale, e non che poi, tutta una serie di, di altre, così, disgrazie, chiamiamole, e questo non ci sarà più, non ci sarà più, e perché, finalmente avremo capito, finalmente saremo uniti, soprattutto, no, la, la, il meccanismo del potere, non ce lo dimentichiamo, è, divide et impera, quindi, dividi e comanda, no, la, la, la divisione, il mettere gli uni contro gli altri, è di fondamentale importanza, per un sistema di questo tipo, per poter continuare a perdurare, giusto, e, e, magari ci dedicheremo anche un video a questo, perché avevo, avevo l'intenzione di farlo, no, cioè, sul perché siamo, siamo così divisi, ok, su tutte quelle che sono anche le dinamiche, che ci portano ad essere così divisi, e questo è il momento giusto, dopo tanti anni, dopo tanti secoli, ok, per fortuna, tra virgolette, per capire, per passare oltre, no, per capire, perché lo stiamo capendo, lo stiamo capendo, finalmente anche direi, quanto tempo è passato, ok, e quindi immaginatevi, immaginatevi già con questi presupposti, con il nessuno escluso, con l'uguaglianza, ok, delle persone, anche qui, ci si potrebbe molto riflettere, ok, su quello che è il tema dell'uguaglianza, perché io stesso non mi sono, ho fatto guerra con me stesso, ok, per darmi delle risposte, ok, e perché molti, molti dicono, ok, sì è vero, ma come, come valore di umano, di persone, ok, siamo tutti uguali, diverso il valore sociale, o quant'altro, il valore magari, nel senso, non tutti siamo intelligenti, uguali, quindi biologicamente, ok, ma quando io sento questi discorsi, mi indispongo abbastanza, perché dico, ok, può anche essere vero, perfetto, ma vedo come, dovere morale, ok, con tutto quello che può significare, utilizzo queste parole, dovere morale, di chi è più intelligente, più saggio, più consapevole, occuparsi, ok, magari anche, non per forza direttamente, ok, di chi è più, tra virgolette, anzi meno, non lo so, più svantaggiato, ok, in questi termini, ok, meno, meno, meno forte si potrebbe dire, meno forte, nel senso come dire, meno spigliato, ok, meno, non ci trovo niente di corretto, nel dire che, quindi, solo perché esiste questa magari, disuguaglianza, ok, a livello biologico, allora, questa debba avere chissà che tipo di ripercussioni, no, vogliamo darci un certo tipo di ordine, vogliamo agire nel nome dell'amore, della consapevolezza, questi discorsi non hanno alcun senso, non ce l'hanno, le persone più illuminate, guideranno tutti quanti e nessuno sarà escluso e nessuno rimarrà indietro, perché questo è il vero concetto di cooperazione, l'aiuto messo in gioco dall'azione di tutti, in particolare nel microscopico, nel microcosmo, scusate, dei singoli, ok, che poi fanno la collettività, per il vero beneficio di chiunque, perché anche adesso, dal punto di vista quantomeno verbale, ok, di parole, noi ci mascheriamo dietro alla, a questa falsa credenza, cioè falsa credenza, intendo dire che, si pensa che noi come società, ok, tendiamo a comportarci in questa maniera, ma non è un cazzo vero ragazzi, ma non è un cazzo vero, ma guardate i risultati, no, guardate fuori, guardate quello che c'è, vi sembra vero? si agisce veramente in nome della collettività? Anche recentemente, non ho pensato a quello che è successo, sì, veramente? Per la collettività? Lasciamo perdere, lasciamo perdere, dai. Ripeto, non sarà così, non sarà così, perché uniti appunto nell'amore, nella consapevolezza, noi possiamo creare un mondo che nemmeno ci immaginiamo, le scoperte scientifiche. Dicevo nel video precedente, anche se non avevo mai parlato prima così seriamente, e non credo nemmeno che sarà questa la sede, che noi siamo già in grado di trasmutare la materia, ok? Questo è possibile, e a questo punto ben venga il link, di conseguenza, della macchina di Majorana. La macchina di Majorana, Ettore Majorana, appunto un fisico siciliano, che è passato molto in sordina, tra l'altro, dato per morto, ok? Che ovviamente, come dico questo, perché ovviamente non era morto, e ha costruito questa macchina, in grado di produrre praticamente antimateria, e far sì con tutte delle operazioni, che io in questo momento disconosco, nonostante le abbia approfondite, ma non me le ricordo, ovviamente così nello specifico, da riportarvele, ok? Cioè le ho presenti ovviamente, ma quando riporto una cosa, mi piace riportarla bene, appunto, di produrre sostanzialmente, non solo energia infinita, ma anche di trasmutare la materia, e quant'altro, perché poi c'erano anche diverse fasi, di sviluppo e evoluzione, di questa macchina, quindi, diciamo che con quella, ok? Sarebbe possibile già, per esempio, sistemare tutti i problemi, che ci sono, un buco nell'ozono, il problema della CO2, le scorie radioattive, la plastica stessa nel mare, perché no? E quindi, adesso mi dispiace anche farla così breve, perché, ovviamente ci sono un sacco di altre cose da dire, ma, sembra di cibo, ma no, ma da come dici tu, sembra così facile, cioè, capite? Abbiamo già raggiunto questa, questo livello, ok? Di facilità, quindi immaginatevi che cosa potrebbe venire fuori per il resto, ok? Il cibo, che cibo ci troverò mai? L'agricoltura, cioè come cambierà il modo di coltivare, il modo di approvvigionare tutte le persone nel mondo, con, con del cibo, veramente nutriente, perché se noi mettiamo a posto tutto, e abbiamo anche le capacità, le tecnologie, ok? Per farlo, cioè veramente noi rivoluzioniamo qualunque tipo di cosa, avremo una società innanzitutto molto più in comunione con la natura, o ripeto, comunque manteniamoci a livello ideale, vi sto dando degli spunti, ma è possibilissimo, e sarà così di fatto, poi come avverranno questi cambiamenti nello specifico, ci si può riflettere, ci si può dibattere, ok? Ripeto, condividete, e se avete dei pensieri appunto, se avete delle idee, e del, così viaggiate pure con l'immaginazione, ben venga, ok? E, una società molto più in comunione con la natura, cioè avremo un'urbanizzazione, che pur, pur sarà, presente, e nonché efficiente ovviamente, perché siamo tanti comunque, e, e magari, il nostro numero potrebbe anche aumentare, e quindi dovremo sicuramente fare i dovuti calcoli, e le dovute considerazioni, ma sicuramente sarà un'edilizia, ok? Un'urbanistica molto più in armonia con la natura stessa, a partire dall'utilizzo dei materiali, e a concludere con il rispetto dell'ambiente circostante, delle aree verdi e quant'altro. immaginatevi l'acqua, ok? Che è probabilmente, cioè, uno dei beni più preziosi, se non il più prezioso, però non voglio dire il più prezioso, perché tutto è importante, ma senza acqua, possiamo sopravvivere ben poco tempo, no? E, immaginiamoci come potrebbe essere quest'acqua depurata di tutte le schifezze che ha dentro, voi non avete idea, veramente non avete idea di quante schifezze l'acqua abbia dentro, a partire dalla plastica, e a partire dall'utilizzo delle schifosissime bottiglie di plastica, che è come, soprattutto in estate col caldo, se noi ci bevessimo la plastica, e avremmo completamente risolto il problema delle emissioni di anidride carbonica, utilizzeremo i veicoli stessi, i veicoli stessi potranno, adesso parliamo dell'elettrico, sì, anche l'elettrico però è un po' uno specchietto per le alodole, mi sono reso conto io per primo di cui mi ero illuso, no? C'è il problema dello smaltimento delle batterie, c'è il problema della CO2, che in realtà viene il processo di produzione, e quindi messa in circolo appunto nell'atmosfera della CO2, semplicemente si è spostata ad una delle altre fasi del processo di fabbricazione dell'auto, ok? Cioè, quindi dov'è che cambia così tanto la cosa? ma in realtà noi avremmo già progetti di macchine ad acqua, ok? Le macchine a idrogeno, le macchine in canapa, come abbiamo fatto vedere in uno dei tanti video che avevo messo sulle risorse utili, il link della macchina in canapa di Henry Ford, c'è stato Ford stesso a costruirla, ok? Nel 41, nel 39, vabbè, il 39, insomma, giù di là, quando era, e alimentata tra l'altro a una miscela di canapa, semi di canapa, olio di semi di canapa, etanolo, quindi sarebbe l'alcol, ok? E quant'altro. Oltre a tutti gli utilizzi che poi si possono fare con la canapa, ragazzi, in ambito tessile, in ambito terapeutico, e adesso magari me ne sto anche dimenticando altrettanti, ma veramente, quindi, cioè la natura, pensate come la natura avrebbe già predisposto tutto quanto, con una sola pianta, come può essere la canapa, appunto, noi possiamo fabbricare auto, carburante per auto, maglie, vestiti, ok? e addirittura anche utilizzarle in ambito terapeutico, cioè rendiamoci una pianta. Invece, ci hanno convinto, ok? Che, no, ma perché dobbiamo fare male a madre natura? Perché è stata questa proprio la campagna, ho letto, di manipolazione mentale, ok? Perché di fatto quello è al popolo americano, e in primis, e poi tutto il resto, delle grandi multinazionali, ok? Dei tempi, quindi delle corporazioni, dei tempi. perché fare del male a madre natura, no? Utilizzando questa pianta, strappandola via. Abbiamo il carbone, abbiamo il petrolio, no? Soprattutto utilizziamo il petrolio. Cioè, ragazzi, incredibile, veramente. Incredibile. La nostra società non ha un senso, non ha un senso, facciamo le cose veramente senza senso, ma andiamo verso il positivo, che stiamo qua a dire, ok? del passato, che non ci appartiene più ormai. E quindi, l'aria pulita, finalmente, basta, non c'è più, l'inquinamento non esiste più, l'abbiamo risolto, CO2, via, carbone, via, tra l'altro vi interesserà sapere che, a tal proposito, è stato anche inventato, ci sono stati inventati comunque dei metodi di combustione alternativi, ok? Uno fra questi si chiama Pirolisi, ok? vedrò di scriverlo, magari metterlo sulle risorse, ma anche il nucleare, ragazzi, cioè, no? Si predica tanto dell'impossibilità di effettuare la fusione, fusione fredda, si chiama, fissione a caldo, quella che utilizziamo adesso, la fusione fredda, no? Impossibile, non si può, già realizzata, ragazzi, fusione fredda, tranquillamente, anche qui, altra risorsa utile che vi posso mettere, iniziamo adesso a buttare giù proprio le scoperte scientifiche, che possono rivoluzionare veramente l'umanità, più di quanto già non siamo in grado di fare, perché abbiamo tutto, ragazzi, fate conto che abbiamo tutto, e sono solamente ostacolati questi processi, tutto qua, perché poi ci si nasconde dietro a dinamiche un po' anche stupidine, no? Tipo il fatto di dire, eh, ma che è quello su cui poi giocherebbe il potere, cioè, l'energia elettrica gratis a tutto il mondo, Nicola Tesla, torre di Wondercliff, ok? Quindi tutto il mondo connesso, energia elettrica infinita, gratis, ok? E magari anche nel rispetto dell'ambiente, visto che comunque da un punto di vista di campi elettromagnetici, internet, la connessione, le antenne, 5G, quant'altro, non è comunque troppo salutare, così come non è salutare per noi interferire, o comunque avere l'interferenza di campi elettromagnetici esterni, soprattutto perché anche noi abbiamo un determinato campo elettromagnetico, così come anche ce l'ha la terra, ok? E tra l'altro anche qui ci sono diverse chiacchierate, diverse cose che potremmo dire in merito, ok? Riguardo a cosa sta succedendo nel campo terrestre, ma vabbè, insomma, lasciamo perdere, tanto sono sempre quelle. E uno dice, ma non possiamo far crollare le multinazionali del petrolio, non possiamo far crollare il business dell'elettricità, ok? E pensa a quante persone poi, tra l'altro, che lavorano avrebbero lasciate a casa. Vedete dov'è il problema? Cioè, è una puttanata questa, perché è il presupposto che è sbagliato, tra l'altro le stesse persone che poi lo pagano quel petrolio, che pagano quella corrente, quindi, cioè, lasciamo perdere anche questo, non servirà più, non servirà più, perché anche il concetto stesso di denaro, di economia, con il vecchio almeno utilizzo del termine, sarà morto, sarà decaduto, non servirà più, pensateci, abbiamo tutto, tutto, abbiamo tutto, aria pulita, acqua pulita, magari avremmo anche ripristinato il giusto rapporto, tra virgolette, con il sole, intendo dire perché adesso si sente spesso dire che i raggi ultravioletti non sono più quelli di una volta, che adesso bisogna stare più attenti al sole, cioè, assurdo, nel senso che comunque io penso che il sole è la nostra fonte di vita principale, nonché oggetto di culto, scusate, oggetto di venerazione, ok, da parte di tutti i culti, che in primis, così vi voglio dire, erano tutti quanti i culti solari all'inizio, tutte le immagini anche che sono state riprese dopo, tutte le religioni che sono nate, fanno capo a dei culti solari, ok, che forse non vorrei dire una cavolata, affondano le loro radici ancora prima di popoli come quello egizio, ok, e tutte, tutte le religioni sono influenzate da culti solari, eh, almeno quantomeno quelle più note, e quindi ho detto, aria, acqua, sole, ecco già, aria, acqua, sole, terreni, ok, quindi agricoltura, finalmente i terreni, ok, depurati, magari avremo, anche lì da tutte quante le scorie, pioggia acide, come si chiamano, detriti radioattivi, e quant'altro, e quindi magari avremo anche un nuovo tipo di agricoltura, sicuramente mangeremo, dei cibi molto più leggeri, sarà un'alimentazione molto più a base vegetale, perché nel frattempo poi la nostra evoluzione ci avrà portato anche a capire definitivamente, a tutti quanti, che anche la carne non sarà più necessaria da mangiare, attenzione, non più necessaria da mangiare, io stesso per esempio, ho, la mia alimentazione di base è molto tendente al crudismo, e a, come dire, all'eliminazione, ok, degli animali, io comunque mangio pochissima carne, tendenzialmente l'unico pesce che mangio è il salmone, cerco di evitare il più possibile la carne, qualche volta mangio le uova, perché comunque non mi dispiacciono, ci stanno, anche qui sono un po' contraddittorio in certe situazioni, perché ho letto diversi parelli, però, ripeto, se posso, ovviamente sempre con il dovuto rispetto, le mangio, ok, per il resto, ok, sì, basta, anche qua, libera scelta, cioè, nel senso, però, l'evoluzione della coscienza ci avrà anche portato a capire che noi possiamo convivere tranquillamente, in armonia con tutti quanti gli animali, nel dovuto rispetto, perché se una volta era un must, cacciare, però ragazzi, c'era anche tutto un altro tipo di approccio con l'animale, tutto un altro rispetto dell'animale, quello era il tuo cibo, la tua fonte di sostentamento ti serviva, o almeno all'ipotetico antenato, serviva, perché doveva procurarsi il cibo in qualche modo, e questo si inserisce anche in un'ottica di natura, cosa che anche io a volte fatico a capire, cioè, non è che il leone uccide la gazzella per cattiveria, ma perché deve mangiare, cioè, e questo non ha nulla di imperfetto e impreciso, fa tutto parte dell'armonia della natura, invece non fa parte dell'armonia della natura, poco per niente, la maniera in cui noi trattiamo e alleviamo gli animali, molte persone non sono pronte a ragionare in questi termini, io me ne rendo conto, ma ragazzi se voi vedeste, veramente a me è bastato vedere poco, poco niente, molto di questo l'ho letto e visto per immagini, ok, che cosa fanno e come trattano gli animali, nei macelli, negli allevamenti e quant'altro, e ti viene voglia di, cioè, ti dovrebbe venire voglia di smettere di mangiarli, quanto meno è, e sto dicendo anche una cosa un po' brutta, per un certo punto di vista, per rispetto verso te stesso, per l'energia negativa, oltre che la qualità pessima del cibo, se così possiamo chiamarlo, che finisce sotto i tuoi denti, ok? Ma questo non sarà più un problema appunto nella nuova civiltà che costruiremo. E non oso immaginare come possa essere, come possa diventare il sistema educativo, chiamiamolo. Quindi il formare i nuovi bambini, o magari anche tutte le persone, ma soprattutto ovviamente i nuovi bambini, verranno portati a, sicuramente il loro processo cognitivo, quei loro processi cognitivi di apprendimento, ok, verranno portati ad un livello pazzesco, perché gli verranno insegnate delle cose, delle dottrine, anche molto più profonde, molto più spirituali, verranno aiutati nello sviluppo dei loro talenti, nello sviluppo del loro senso critico appunto, dell'essere appunto degli adulti, chiamiamoli appunto responsabili, e con determinati, con determinato sistema di valori. Quindi sarà proprio l'educazione, ecco, il tassello fondamentale della nuova società, ok? Questo sì, fondamentalmente c'è da dirlo, perché poi tutto deriva alla fine da come noi veniamo impostati fin da piccoli, a prescindere anche da quella che può essere la consapevolezza di ognuno e la libertà di scelta di ognuno, nel momento in cui io vengo formato a vivere e comportarmi in un certo modo, sottintendendo per ipotesi positivo, ecco che io farò generalmente cose positive appunto, e sarò un bene, una fonte di bene, e di grande utilità e aiuto per la società, per la collettività, in primis per me stesso appunto. E quindi cosa abbiamo detto? Abbiamo parlato di urbanistica, architettonica, nel rispetto con la natura e dell'ambiente, e convivere appunto in armonia con la natura, abbiamo parlato del cibo, molto più leggero, una dieta molto più a base vegetale, con il cibo completamente depurato, privo di ogni tipo di tossina, e ricco nuovamente di tutti i tipi di nutrienti, quasi da sembrarci appunto cibo degli dèi, abbiamo detto che avremo un'acqua meravigliosa, un sole meraviglioso, un'aria meravigliosa depurata, l'ambiente anche, i mari, i mari saranno puliti, non avranno niente, e magari chissà come si svilupperà poi la fauna appunto locale, oltre che la flora, le piante, alghe, animali, marini, terrestri, ok? sarà appunto un paradiso, sarà un paradiso. E la medicina, ah beh la medicina ragazzi, adesso c'è, il discorso dell'immorto, ecco, potenzialmente noi potremmo vivere veramente, veramente a lungo, e per veramente a lungo intendo dire anche più di 500 anni, un corpo medio si dice adesso che possa vivere fino a 120, ripeto, di media. E sì, sono d'accordo, ma mi rendo anche conto che ci sono anche dei buchi in questo, che magari cercheremo di colmare in altri video, comunque sono sempre spunti per chiacchierate interessanti, ma la medicina farà miracoli ragazzi, letteralmente, non più di quanto poi ne possa fare già ora è, perché quello è il discorso, già ora potremmo farli, ok? Non avremo più strumenti di diagnostica, che magari non sono così il massimo, tipo non so, penso anche alla TAC, TAC, chiamatela come volete, comunque ti becchi radiazioni quando ti fai raggi, almeno con quella, anche se sinceramente non sono neanche un grande fan della risonanza magnetica, però vabbè dipende, però è contro anche in entrambe. Ognuno probabilmente potrebbe essere che abbia la propria terapia personalizzata, perché come ho già detto in due video appunto che abbiamo fatto sul corpo umano, sulla comprensione della nostra struttura, e sulle frontiere pionieristiche della medicina del futuro, ognuno avrà una terapia individuale, perché ognuno è diverso, ognuno di noi è diverso, non esiste una standardizzazione, quello ci prova a fare la medicina occidentale, classica, quella di che adesso utilizzano, non utilizzano, utilizziamo, vabbè ok se vogliamo, e con, sì, risultati, non voglio dire scarsi, ma neanche così grandi, ma il problema non è tanto quello, il problema è perché è dovuto a una miscomprensione del nostro funzionamento, della nostra completezza, ok? Non per niente infatti la medicina occidentale è settoriale, e quindi già di per sé, per questo motivo, molto molto limitata. Non vedo limiti sinceramente alla medicina, e nemmeno alle terapie, agli strumenti utilizzati per guarire una persona. Vedo grandissima, una grandissima esplosione in senso positivo, quanto a soprattutto utilizzo, della medicina energetica, di una terapia psicologica, anche nella misura in cui ovviamente si vuole in primis far comprendere alle persone come le molte anche malattie, abbiano in realtà una dimensione mentale, ok? Non è un negativo, è mentale, nel senso che abbiano origine da uno squilibrio proprio a livello anche mentale, consideriamo per esempio la dimensione della paura, o anche uno squilibrio emotivo, quindi per forza non una dimensione fisica appunto della medicina, non solo quanto a meno, ma anche una dimensione metafisica, ok? Più, meno tattile, ok? Che però c'è, e sapremo appunto, e su cui sapremo intervenire. E sappiamo già in realtà, ok? persone che vivono più a lungo, persone che stanno sempre bene, fondamentalmente, e... beh ragazzi, già questo io non lo so, dovrebbe mettere pace, mettere armonia, anche se pensate, c'è un episodio di Rick e Morty dove parlano di questo, un episodio tra l'altro molto significativo per tutti gli spunti che ci sono dentro, ragazzi, veramente, direi andatevelo a vedere, ma vedetevi tutto Rick e Morty già che ci siete, come ho già detto più volte, e... purtroppo, adesso non mi ricordo nello specifico quale sia, c'è da dire che anche lì viene mostrata una cosa, che è quello che ho detto in un altro video, sia come le persone non si capacitavano, ok? del fatto che andasse sempre tutto bene, ok? e addirittura non gli comodava, ma ragazzi, cioè, riflettete su questa cosa qui, poi problemi nella vita di ognuno, ok? cose che possono non andare, è normale che ci siano, la vita è fatta anche di questo, ma non volere o non credere, non concepire una... che una cosa del genere sia possibile, cioè, è veramente la cosa più controproducente che possiamo fare, non esiste un motivo logico di qualsiasi tipo per cui noi noi non dovremmo ambire aspirare ad una cosa del genere, il problema è liberarsi di questo tipo di illusione, eliminare ogni tipo di manipolazione mentale che ci è stata fatta per allontanarci da questa condizione, perché in primis le persone che hanno dato inizio, ok? a questo tipo di processo e che vi fanno credere ogni giorno di questo sono quelle che comandano, sono quelle realmente al potere, ok? e lo fanno solamente per scopi personali e rifletteteci su questa cosa, rifletteteci parecchio perché è molto importante, molto importante, ragazzi, non, 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 non dovrebbe nemmeno esistere e queste persone che fine faranno? Bella domanda, potrebbero scomparire, potrebbero essere messe a un ipotatico confino, potrebbero essere allontanate, potrebbero essere reintegrate, addirittura, perché no? Non, tutto è possibile, ricordatevi a che tipo di società stiamo per assistere, il nuovo mondo che ci aspetta è meraviglioso, ragazzi, e pensate anche a quello che potrebbe essere la valorizzazione personale di ognuno di noi in quel mondo, cioè veniamo da una società in cui c'è appunto la competizione e in cui ci dicono che nessuno di noi ha valore che nessuno di noi ha capacità, competenze, ok? Che non valiamo un cazzo, che siamo qui abbandonati dalla natura, nati per caso, e invece viceversa in questa nuova società ognuno di noi darà il proprio contributo, sarà una tassello fondamentale di un puzzle meraviglioso, ok? Di un disegno più grande, agiremo tutti l'uno per l'altro, ognuno, ognuno avrà tutto il necessario per la vita, non gli mancherà niente, avremo libertà di scelta infinita, perché qualunque cosa avremo voglia di fare la potremo fare di fatto e tutti quanti finalmente vivremo in pace, in armonia e in serenità e avremo forse, perché poi chi lo sa che tra virgolette sfide ci possono attendere, realizzato il come dire, abbiamo raggiunto il trionfo della dell'umanità, della consapevolezza umana, della delle capacità, ok, di cui siamo stati dotati, non riesco neanche a trovare dei termini particolari, perché la cosa mi emoziona a tal punto che non non mi vengono nemmeno le parole e se voi avete qualche idea, qualche pensiero, qualche riflessione che volete condividere, prego benvenga, ok, sappiate che con questo chiudo, perché abbiamo detto tutto, il nuovo mondo che ci aspetta è meraviglioso, ragazzi, è l'unica cosa che dobbiamo fare per metterci nella direzione di costruirlo, è semplicemente cambiare paradigma, iniziare ad accettare che il il cambiamento è possibile e che gli artefici di questo cambiamento siamo proprio noi, ognuno di noi, e detto questo, come al solito, statemi bene e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!